Io ho cominciato a fare l'attore a 18 anni e nel tempo ho recitato con grandi attori in teatro e al cinema, ho lavorato per esempio con Michele Placido e Kim Rossi Stewart e da un anno più o meno sono qua e ho voglia di portare il mio teatro qui in Bregaglia. Si tratta innanzitutto di uno spettacolo divertente, o almeno cercheremo di farlo divertente e poi l'idea è un po' quella di far rivivere il castello come se fosse appunto una casa e quindi ci sono questi tre fantasmi, questi tre spiriti, la baronessa, una cuoca e uno stagliere che a seconda del piano che vivono racconteranno una storia e faranno rivivere un po' il palazzo come ai tempi di quando era una casa, una vera e propria casa. Il corso di teatro per adulti lo stiamo organizzando insieme alla formazione Bregaglia e partirà credo per la fine di ottobre, bisogna un po' sbrigarsi per prendere gli ultimi posti e un corso di teatro serve a stare meglio con se stessi, senz'altro, a migliorare magari la lingua e ad avere, come dire, un maggiore sicurezza, maggiore sicurezza di stare nel mondo, nel mondo che ci circonda e quindi gli affetti, il lavoro, la società. Per quell'occasione insieme ad Annemiche Buop e a Silva Rutigliano faremo delle incursioni teatrali, troverete dei personaggi di Shakespeare che poi chissà se era veramente lui che racconteranno, vivranno dei piccoli monologhi, delle piccole scene o durante una conferenza, o durante un pranzo, o durante la manifestazione.